I got options, I can pass that bitch like Stark Come vedete dietro di me, 7 marzo, domenica 7 marzo è la giornata unica in cui si terrà l'All Star Game, l'All Star Weekend quest'anno Ebbene sì, perché i giocatori non vogliono giocare, l'NBA non saprà sorganizzarlo, non sai tutto un casino Non si sa se ci sono i tifosi, è un completo disastro quest'anno L'unica sicurezza per adesso è che ad Atlanta si farà il 7 marzo tutta una serata in cui ci sarà Skill Challenge Garantino da tre punti, dalla mezza in poi 6.30 nella East Coast Quindi dalla mezza ci va anche bene tutto sommato a noi che cominciano un po' prima le cose Alle 8 di sera, quindi alle 2 dovrebbe essere, avrà inizio il settantesimo All Star Game Ed eccezionalmente quest'anno all'intervallo, durante l'intervallo a metà partita ci sarà la gara delle schiacciate E già ve lo dico signori, visto che è tutto una giornata, per quanto io ripeto non sono grande fan dello Star Game Maratona su Twitch Eh sì sì sì, domenica 7 marzo tenetevi già liberi, io parto alle 9 con un po' di NBA 2K Vediamo quel che ci sarà da fare, magari Limiter, Unlimiter, che ne so, Sfide, XP, Cazzi e Mazzi E poi da mezzanotte alla mezza andiamo con la Reaction Non magari non sarò solo, vediamo se in compagnia fisica o in compagnia vocale di qualcun altro che è in stream o che mi tiene compagnia Insomma, quello vi faccio sapere, però sicuro mettetevi già la sveglia 7 marzo, Maratona, All Star Weekend Ed essendo noi appunto in ritardo quest'anno, come vi dicevo, questa volta abbiamo la possibilità di vedere già i quintetti che sono usciti E i due capitani, ovvero LeBron per la Western Conference e KD per la Easter Conference Sapete comunque bene che le mie votazioni non sono mai eccessivamente banali Perché è vero che sì avrei votato per qualcuno di questi come Bradley Beal e Steph Curry Ma ovviamente non avrei votato per LeBron e per KD perché è inutile che vi faccia un video dicendo Ah sì, voto LeBron, voto KD, voto Embiid, voto Giannis, voto Jokic Che è chiaro come il sole che faranno allo Star Game No, ecco, cerchiamo di votare magari qualcuno per cui c'è un po' più da fare due chiacchiere Comunque, Western Conference, LeBron, Kerry, Doncic, Jokic, Leonard, Easter Conference, Kerry Irving dietro di me Bradley Beal, Durant, attento compo, Embiid Dieci persone che si meritano al 100% di essere allo Star Game 9 su 10 sono d'accordo perché io Luca Doncic non l'avrei messo in quintetto Vi dico la sincera verità Non che non se lo meriti Però penso che ad esempio Lillard se lo meriti di più Però, per l'amor di Dio, questo è un altro discorso So che è un po' sfoccato ma voglio fare questa parentesi importante Perché il regolamento dello Star Game è questo qui del 2021 E sarà uguale, identico a quello del 2020 Con quello fatto in onore per Kobe Bryant praticamente Che l'anno scorso ha avuto grandissimo successo E ci ha regalato uno degli All Star Game Se no, l'All Star Game più bello di sempre Partire da 4 quarti, 12 minuti a quarto I primi 3 quarti si riazzera il punteggio Ma viene contato chi vince ai vari quarti I primi 3 quarti vengono sommati i punteggi La squadra che in vantaggio gli vengono attribuite un bersaglio di 24 punti Sempre in onore di Kobe Chi per primo arriva a quella cifra lì Quella che in sconfitta deve recuperare lo svantaggio E fare quei 24 punti La prima che arriva lì vince Non c'è tempo come l'anno scorso Passiamo adesso al momento dei voti Che è un po' l'argomento del video Anche se quest'anno c'era qualcosa in più da spiegare Visto l'anno strano e le mille incertezze Che spero di avervi chiarito In caso mi sia dimenticato qualcosa Fatemelo sapere assolutamente nei commenti Cominciamo dalla Eastern Conference Dove così come nella Western Conference farò una votazione banale In questo caso sarà quella di Joel Embiid come centro Perché vabbè ragazzi Sixers primi nella Eastern Conference Stanno abbastanza distruggendo più o meno tutti Diciamo E l'Embiid sta facendo una stagione paurosa Reduce da qualche giorno fa Dal carriere da 50 punti e 17 rimbalzi Cioè non votare l'Embiid per quanto può essere banale E veramente offensivo verso i suoi confronti Poi sapete io Amo, amo veramente Joel Embiid L'altro luogo che voglio mettere E Sabonis Anche qui è vero Un po' scontato Però è giusto che non stiano Il quintetto dello Stargame Ma mi sembrerebbe una follia Che non venga convocato Quest'anno E credo sia proprio L'anno in cui viene convocato Quasi, quasi, quasi certamente Anche lui Triple e doppie Prestazioni assurde Carrierai Bla 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 Indiana Nella top 4 Nella top 4 Delle squadre Nella Easter Conference Adesso ha cominciato a tirare da 3 Con una certa costanza I Knicks che fanno bene Sono materiale da playoff Sicuramente per merito suo E per la cura di coach Tibodo Ha aumentato le cifre E sono cifre che stanno provando la squadra a vincere Cosa che fino a prima non erano Quindi per quanto i Knicks abbiano un record perdente Randall secondo me va votato E dovrebbe fare assolutamente lo Stargame Potremmo fare praticamente lo stesso discorso Anche se la situazione dei Bulls È un po' peggiore Perché non sono troppo in zona playoff E il record è un po' più brutto Rispetto a quello dei Knicks Per Zach Lavin Che anche lui Non sta facendo una vera e propria breakout season Perché ne ha fatta già una l'anno scorso Però sta continuando quella dell'anno scorso Trentelli, quarantelli Ogni tanto rischia cinquantelle O partite da dieci, triple Come se fosse normale Per uno che era conosciuto Solo per saper schiacciare e saltare Come nessuno mai Per l'amor di Dio Ma solo per le schiacciate È un bel lavoro Se non sbaglio l'anno scorso È rimasto fuori all'ultimo secondo Dalla partita delle stelle Direi che quest'anno Se la merita al 99% Anche lui ho un po' paura Che venga snobbato dalle convocazioni Però credo che debba andarci Per l'ultima via posizione Nella Easter Conference Potrei essere banale Votare Simmos Potrei essere banale Votare Arnen Potrei essere abbastanza banale Votare Brogdon Ma voglio essere esotico Termine che va molto di moda adesso Alternativo Per modo di dire So che non farà mai lo Stargame So che vi incazzerete Forse probabilmente La Melobol Sì 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 voto la Melobol Allo Stargame Sì Non lo farà mai Sì Lo so Lo so Lo so Mi aspettavo molto peggio Dalla Melo Perché me lo aspettavo Cazzarone Che non ha voglia Non fa giusto Le giocate spettacolari E lo fa Ogni tanto Difatti la costanza È il suo problema Però Sta facendo delle cifre Delle giocate Comunque si vede Che è già migliorato Da due mesi a questa parte Tre mesi che è cominciata La stagione regolare Sono Cioè Forse avevo troppo e poche aspettative Io Potrebbe essere Magari voi mi direte Boh io mi aspettavo esattamente questo Addirittura mi aspettavo di più Io mi aspettavo molto peggio invece Ed essendo sorpreso Voglio premiarlo In questa maniera qua So bene che non farà mai Lo Stargame Ma siamo qui per dare voti alternativi oggi Adesso andiamo però a parlare Dell'argomento cardia di oggi Perché la Western Conference È un casino ragazzi È veramente un casino Allora Oltre a Lillard Che non è in quintetto Allora lo voto Di conseguenza È un voto un po' banale Perché Mi sembra abbastanza ovvio Che farà Lo Stargame Considero giustissima La posizione in quintetto Di Seth Curry Che sta facendo una stagione Cifra la mano Quasi uguale A quella del 2006 In cui ha vinto L'Unanimus MVP Per farvi capire Poi certo Fare 73-9 Aiuta per vincere L'NVP unanime Sto anno un po' diverso Però comunque Guardando le cifre È praticamente la stessa cosa Quindi Via di Lillard Per la prima posizione Nella Western Conference E posso dirvi che Anche un po' controcorrente Voto Chris Paul Per la seconda Diciamo così Guardia Sarebbe da votare anche Devin Booker Però due della stessa squadra Non mi va Dai Secondo me Booker È più probabile Che faccia lo Stargame Chris Paul Non credo Lo farà invece Però ragazzi Cioè sono due anni di fine In cui va delle squadre Quella dell'anno scorso Sinceramente Molto mediocre E fa i playoff Quella di quest'anno Già potenzialmente buona E di fatti Sono quarti Nella Western Conference Cioè E ragazzi Non è un caso Che comunque Vada Chris Paul Vengono fuori Delle squadre a playoff E quest'anno Forse Forse Anche per qualcosa In più È playoff Non da titolo Però per qualcosa In più Ecco Per non dire Wow Se è arrivato il primo turno È già un miracolo Il mio terzo voto Per la Western Conference È un discorso Un po' simile Alla meno Nel senso che Non avevo Queste grandissime Aspettative È Zion Zion sta facendo Una stagione Veramente solidissima I Pelicans Fanno abbastanza pietà Sì Se non ci fosse lui Farebbero Estremamente pietà Lui è Ingram So Però Zion sta facendo Non solo a cifre Ma anche Ha proprio un modo Di giocare Sembra proprio Si sia ambientato La perfezione È vero che deve ancora Migliorare la lettura È vero che deve Migliorare ancora il tiro Per l'amor di Dio Anche la difesa Sono un po' È quello un po' Che rende pessimi Pelicas Però forse Quello è anche Un problema di squadra Non solo Non solo singolo Credo che forse Potrebbe farlo Zion lo Stargame Non lo so Perché è vero Che i voti Del pubblico L'hanno messo Molto avanti Però dipende poi Anche Dalle Dalle convocazioni Non dipende solo Dai voti Della gente a casa Come noi Però io Zion vorrei Vorrei premiarlo Col mio voto Ecco La quarta posizione Voglio dare un voto Anche qui scontato Da una parte E dall'altra Stesso identico discorso Per Embiid Lo faccio per Jokic Neanche ve lo ripeto Copiate Incollate Anche il fatto Che mi fanno impazzire Entrambi Copiate Incollate per Jokic Assurda La stagione Che sta facendo E chiudiamo Quel quinto voto Anche qui Un po' così Di uno Che molto probabilmente Non farà lo Stargame De Mar De Rosa Sì Io che voto De Mar De Rosa Nello Stargame Sì Lo so Mi sta anche un po' Nessuna maniera ha voluto adattarsi Al gioco odierno E mi davano un po' fastidio Queste cose Però lui è bravo a fare Anzi È dannatamente bravo A fare le cose che fa E si vede Quest'anno che gli Spurs Sono sani Riescono a giocare un po' più Alla stile Spurs Alla stile Popovic 16-11 Al momento in cui vi sto parlando Con De Rosa Che sta facendo delle cifre Non incredibili di certo Però solidissime Vista anche la squadra Non del tutto fenomenale Vado controcorrente E voto De Mar De Rosa Nello Stargame Sì lo so Lo so Non vi arrabbiate Scusatemi Scusatemi Non vi arrabbiate Però dai Facciamo una roba così Quest'anno È un anno strano Questo 2021 per l'NBA Sì E io voto De Mar De Rosa Nello Stargame E va così Va così ragazzi Quindi questi 10 Sono le persone Che avrei votato io Per lo Stargame Sapendo Un discorso Che sì È ovvio Che vanno gli altri Che si meritano di più Ma io voglio fare un po' Per avere qualcosa Di cui parlare Perché se no Cosa siamo qui a fare Spero che se vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Ci rivediamo nei prossimi giorni Con un nuovo video Ogni sera in live Alle 21 come sempre E domenica 7 Maratona All Star Weekend Belli boys We please Weunu Come let podium Beunu Weunu ye Weuna Weunu Weunu